Benvenuti in questo veloce veloce video in cui vi insegno come si dipingono le armature o comunque quei modelli che hanno una totalità o quasi di superficie nere. Il nero è un colore sempre molto complesso, ci sono delle diverse tecniche per dipingerlo partendo direttamente dal contrast della cittadelo o di qualsiasi altro speed paint dell'army painter o del valleio che sia, o anche della green stuff, permette appunto di portare un colore nero piuttosto uniforme e realistico quando si va a utilizzare una base bianca. Ma se si vuole fare un lavoro un po' più interessante e un lavoro un po' più, possiamo dire, professionale, il concetto per dipingere le miniature nere è molto semplice. Di base quando andiamo a dipingere una miniatura di qualsiasi tipo sia si vanno a schiarire i punti principali in modo da creare una sfumatura e quindi partire dalle parti di ombra per andare sempre più a crescere sulle superfici mettere una parte di chiaro. Come potete invece vedere al contrario su questa, possiamo dire, gatta nera di Marvel, il procedimento per dipingere il nero, almeno che utilizzo io, quindi non è una tecnica universale, ma è una tecnica che mi sono trovato bene a utilizzare, è fare esattamente al contrario. Esattamente al contrario vuol dire, scusate che ho la mia manona perché sto registrando così alla veloce, fare esattamente al contrario con la mia tecnica, cioè partire dal colore chiaro per andare poi a recuperare lo scuro. Questo perché è sempre difficile lavorare con colori possiamo dire chiari, è sempre più facile lavorare con lo scuro, quindi andare a utilizzare il grigio molto più chiaro che dovrebbe essere la superficie più luminosa su una determinata armatura nera o a indumento nero è la cosa più logica. Io parto quindi facendo la prima parte di superficie molto chiara, dovrebbe essere più o meno il colore di luce massima che l'armatura dovrebbe ricevere. A quel punto creando una sfumatura, utilizzando una wet palette o comunque appunto una superficie che lascia i colori facilmente amalgamabili, mi metto a scurire sempre di più il colore in modo da ottenere una sfumatura logica che va dalla mia ombra, cioè dalla mia luce massima presente sulla superficie della miniatura che voglio illuminare fino all'ombra nera che sarà la base del modello. A questo punto continuo e procedo con questa tecnica di scurimento in realtà piuttosto che schiarimento, quindi mettendo il colore massimo, la luce massima sulla superficie principale continuo a mischiare il nero alla miscela in modo da poi tornare al colore base che è appunto il nero. Lavoro a fasce, quindi prima lascio la fascia più luminosa, poi vado a diminuire la luminosità aggiungendo continuamente nero alla miscela e creo letteralmente delle fasce di transizione con un colore ben diluito, infatti potete vedere durante il video che molte volte mi asciugo la punta del pennello sul dito, con un colore diluito e il pennello non troppo carico vado a creare delle fasce di colore tra la più chiara e la più scura in modo da creare una continua gradazione, volta per volta scendo dal punto più scuro dal punto più chiaro al punto più scuro per creare questo tipo di gradazione e quindi rimanere sul fondo soltanto con il colore più scuro di base che è in questo caso il nero. Detto questo è una tecnica facile e veloce che si può adattare a qualsiasi tipo di colore in realtà e che trovo anche piuttosto intuitivo ma che mi trovo bene a consigliarvi per dipingere le miniature nere. Detto questo spero che il video vi sia interessato, alla fine potete vedere come è uscita la gatta nera nella sua totalità vedrete come si dipinge la pelle e gli occhi in un altro tutorial. Guardate bene che ho anche dipinto dei dettagli che non erano dipinti durante la pittura per farvi vedere che questa tecnica si usa anche per fare dettagli molto piccoli quindi la maschera, il collare e la fresh up. Grazie mille e ci vediamo ad un prossimo video. Grazie a tutti.